Bentornati su Radio Rebora, io sono Licia e come avrete già dedotto dal titolo questo è un nuovo programma che si chiama Fiori di Carta, ma prima di iniziare questo viaggio insieme direi di ascoltarci un messaggio davvero speciale, perché speciale è colui che lo manda, infatti si tratta di uno dei professori del nostro liceo e quindi ecco a voi il suo messaggio. Dalla redazione di Radio Rebora mi è stato chiesto di mettere mano a una specie di programma dove approfondire finalmente tutti quegli argomenti che per mancanza di tempo a scuola non è possibile affrontare con giusto criterio e spazio adeguato. Ora non starò qui a dire come sarebbe bello insegnare a scuola le armonie del canto gregoriano, la raffinata tecnica culinaria alla corte di Luigi XIV o le peculiari espressioni del teatro visivo giapponese. Tutte attività assai meritorie, qui però sarebbe opportuno, secondo me, dedicare tempo e spazio al di fuori sia degli edifici scolastici, sia dalle lezioni via Skype, Meet Teams o qualsiasi altra piattaforma preferiate. Più ci penso infatti e più paiono davvero innumerevoli le discipline che meriterebbero approfondimento. Rubando come al solito immagini altrui, dirò che ciò che si conosce tramite la scuola è rappresentabile con una sfera la cui superficie esterna tocca tutte le altre conoscenze che stanno fuori dall'ambito scolastico, il che lascia ben comprendere i limiti della conoscenza acquisita per via didattica e l'enorme offsceno di saperi che tange ma sta fuori dalla didattica stessa. Sarebbe all'evidenza assurdo pensare di mettere dentro alla sfera della didattica qualcosa che da essa sta fuori, facendo della scuola una specie di tacchino da rimpinzare ben bene per il giorno del ringraziamento. E allora la mia modesta proposta, che tange evidentemente le mie personali e assai discutibile fisime nonché paranoie didattiche, è la seguente. Visto che a scuola non si può fare quello che è naturalmente impossibile ma altrettanto fondamentale fare, ovvero leggere i testi di cui si discute in linea teorica utilizzando le famigerate ma purtroppo ineludibili antologie, il mio scopo sarà quello di indicarvi dei libri che secondo me valla pena leggere, presentandoveli e trascegliendone qualche passo di assaggio, con il suggerimento di procurarvi al più presto l'oggetto del desiderio in questione, ovvero il libro, in formato cartaceo elettronico non importa, e poi scoprire di persona tutte le meraviglie in esso racchiuse. È quello che già sto facendo per la biblioteca del Rebora e che qui semplicemente riprendo. Non riesco a immaginare altre attività che io possa svolgere in quanto bibliotecario a distanza. Un'ultima precisazione. Sarebbe cosa molto gradita se voi studenti voleste arricchire a vostra volta la biblioteca, proponendomi attraverso la mail d'istituto dei libri secondo voi interessanti, oppure chiedendo chiarimenti in merito a testi o autori già presenti nella biblioteca. Io cercherò di esservi utile, ovviamente, nei limiti spazio-temporali del possibile. Un caro saluto a tutti, Diego Pastorino. Grazie a tutti.